Nuovi tiktok di stumble guys campioni, vediamo subitissimo che partiamo molto male perché abbiamo già una mappa iper buggata di stumble guys campioni Benvenuti e bentornati, ma che diavile di mappa bianca davanti Ma perché c'è il fumo? Ah perché, fermi, abbiamo, credo, le... No, c'è solo della nebbia, no, è peggio, non è una mappa affusa come un'altra Questo qua, non so come ha fatto, ha trovato una mappa dove appunto c'erano più nuvole, più nebbia non vi danno la possibilità di vedere dove erano gli ostacoli Quindi è come se fosse una mappa 2.0 Che figata campioni, ve l'ho detto Ogni volta che guardiamo i tiktok di stumble guys, rimaniamo sempre senza parole Vediamo cosa combattiamo, trick, bug, hack, questa roba qua Questo dove sta andando? Cosa? Si può passare da sotto e tagliare un sacco la mappa? Ok, questo ne sa veramente tanti i trick E questa ragazzi è la mappa che più odio su questo gioco Voi avete una mappa che non vi piace? Ditemela qua sotto nei commenti Oltre che le vostre corone, che come sempre metterò un bel cuoricino a tutti quanti i vostri commenti Proseguiamo però perché ci sta mostrando un sacco di trick questo campione Nella mappa quella senza gravità Quindi vediamo cosa ci vuole mostrare anche per l'ultima parte di questa zona Vediamo con i tre tubi se sa qualcosa, si passa dal lato No, passa dal centro, classico Ci sono alcuni player che passano dal sotto Io non so come fanno Probabilmente perché non mi ci impegno neanche su questa mappa Perché non mi piace per niente Ma ha vinto Vabbè, proseguiamo Eccole qua Le nostre mappe fuse Abbiamo block dash insieme a quella con gli ostacoli Con i tubi che c'hanno gli ostacoli Quindi in realtà è come se stessi giocando block dash con muri aggiuntivi Eh no, perché passa attraverso Ma ragazzi, questa roba qua non ha letteralmente un senso logico Però, vi giuro Prima o poi, voglio provare una di queste mappe Ma che diamine Ma No Questo che cavolo è ragazzi Questo non l'abbiamo proprio mai visto Cioè è riuscito Ragazzi, questo qua è vero però Perché non è una texture ingigantita Cioè è passato proprio attraverso anche a quel muro enorme all'inizio Oh cavolo, è una skin gigante di un drago speciale Che ovviamente è anche la mia skin preferita speciale Che bugga tutto quanto E ovviamente lui è passato perché Può passare attraverso ogni singola cosa Cioè guardate come questo Questo ha funzionato Però per esempio il muro che c'è adesso Lui li passa proprio attraverso scivolandoci sopra Ma che storia è questa? No ragazzi, ho detto Ogni volta troviamo dei glitch assurdi Bug assurdi Oppure anche dei trick Come questo Jack Bow Vuole mostrarci qualche trick in piscina Che ormai tutti quanti Quelli che incontro qui gioco Sono veramente dei mostri incredibili Questo Jack bossa andando molto bene La sta giocando super bene primo Quindi la sta gestendo in maniera impeccabile Passerà sopra ovviamente Passa sopra e non so Dove sta andando? Perché va a sinistra? No! Questo è nuovo! Questo è piscina ragazzi Non l'avevo mai visto Utilizzare il boost dell'altra rampa Ma... No, fermi! Fermi! Ma è passato attraverso anche il palo Ma... Ma perché non fanno le cose fisiche in questo gioco? Scusami, quello è un palo Come diamine è possibile che sia passato attraverso? Vabbè, fa niente Proseguiamo Qua abbiamo un nostro amico pro player Che ogni volta incontriamo su TikTok Vediamo cosa combina E terzo Uno cade! Uno cade Quindi è solo lui contro questo squalo Pingù Lorenz Contro lo squalo Vediamo cosa combina Li farà la scivolata Li passa sotto! No! Anche lui è rimasto al presissimo Riguardiamolo assieme Perché guardate cosa succede Lui fa il doppio salto Quindi scivola Poi fa ora La scivolata passa sotto al salto del nostro nemico Ma il nemico poi fa la scivolata Riprende la posizione all'ultimo Riguardiamolo bene Cioè Assurdo il timing Con cui Tutto ciò È successo Cioè ragazzi Sta roba qua è veramente leggendaria Va bene va bene va bene Questo cosa combina Oh un altro trick Bomba nell'acqua È per forza ragazzi Perché è incastrato qua Quindi utilizzerà una bomba Per arrivare al nemico Sicuramente Ci gioco quello che volete Ed è un trick difficilissimo Vediamo Salta Prende la bomba Ah no! La usa come rimbalzo Ancora No ragazzi scusatemi Ma qua era Xiao Ma guardate Si chiama Xiao È Xiao Forse eh Non lo so Però cavolo Con che timing Con che precisione Però lui ha utilizzato la bomba Non durante l'esplosione Ma solo come appoggio Per saltare nell'altra pedana L'ha giocata Super bene Questo qua Va bene Abbiamo block dash Che è un round Che mi piace un sacco Dove sta andando Nostro amico Sei morto campione Ok lui ha preso danno È caduto ormai nel void Ha perso Non si può mai salvare da qua No! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Non è vero ragazzi Non è vero No 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 Ragazzi Ha utilizzato Gli spuntoni per cadere Poi Ha fatto doppio salto Quando era già in basso Ha riutilizzato Gli spuntoni Per prendere lo slancio Per andare in alto No ragazzi Questa è veramente Troppo esagerata Come trick Fortissimo Cavolo Io una roba del genere Non saprei mai farla Voi la sapreste fare Ragazzi Ditemelo Nei commenti Perché questa è una roba Da Veramente pro player E questo qua Ha un nuovo tip Quindi un nuovo trucco Da passare sul lato Non ci avevo mai pensato In effetti Ti togli un sacco di problemi Con scivolate Pugni di persone Che stanno nell'angolino Della corsia Per non prendere i rulli Quindi Ti togli un sacco di problemi Se passi qua sul lato Però devi stare molto attento A non cadere Né sotto Né anche nella rampa Quella in diagonale Per poi cadere in quella Che ti spara indietro Carino Questo è un bel trick Ragazzi Questo me lo posso segnare Da provare magari La prossima volta Mi piace Mi piace Questo Oh laser La mia mappa Per vittima la valenda Attenzione Vai Quanti sono Eh Come fa a vincere ragazzi Sono troppi Sono troppi No ragazzi È un pro È matto È fortissimo Ci passa No vabbè Qua un pugno Ti fa perdere o vincere Oh Come fa No Come ha fatto Come ha fatto Non è Non è possibile Non è veramente Possibile Cioè ha fatto una roba Di doppia scivolata A un certo punto Che è senza Logica È impossibile E sta continuando No È troppo È troppo forte ragazzi Non si ferma più Non possiamo mai Farlo perdere Farlo cadere Sembra quasi un video Il lupo Mi assicuro Che non è ancora finito Vediamo Perché diventa Sempre più difficile No vabbè Pure con La doppia Spanciata Chiamiamolo No Amico Hai fatto Tutto Benissimo No Ha fatto Tutto Super bene All'ultimo L'ha sbagliata Abbiamo un nuovo trucco Quindi Nuovo trucco In piscina Vediamo Questo nuovo trucco In piscina Cosa ci mostrerà Il nostro amico Jebs No 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 Come Davvero Si può fare Cioè che se partire Su doppio salto Puoi andare subito Veloce in avanti Senza prendere i rulli No Ok 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 E passa anche sotto Eh ragazzi Passare sotto Ti cambia tutto Però Ti dà un sacco di velocità Ah sono tanti tipi diversi Tanti trucchi diversi Questo Ci mostra come Salvarsi su block dash Quindi prendere l'angolo In questo modo E a una certa Quando ti tira giù Direttamente E fare il doppio salto All'indietro Bello Mi piace Mi piace anche questo trick Carini ragazzi Tutti quanti questi trick Servono un po' tutti quanti Per imparare a giocare Contro i pro player Che si trovano nel lobby Questi cosa fanno Perché vanno all'indietro Perché vanno all'indietro Ragazzi Dove stanno andando Dove Ma come Ma come è possibile Ma è un bug Ragazzi è un bug Funzionerà ancora Questo sarebbe veramente Da testare ragazzi Magari in un prossimo video Lo posso testare Più che volentieri Ma sono super curioso Di questa roba qua Quindi nella mappa Delle pedane Quelle che se non sono verdi Cadi giù Se sono rosse Se passi dall'indietro Facendo prima il salto indietro Poi in avanti Sbaghi tutto quanto E arrivi primo Oh Molto interessante ragazzi Questa cosa qua Uh altri laser Altri laser Vediamo il nostro Devi cosa combina Devi Non ci deludere Quanti laser È una finale Ah l'ha già vinta Erano In realtà Credo che il nostro campione Volesse mostrarci Ma Ma come rimangono Solo in due Ma ragazzi Ah sono rimasti Solo in due Non ci credo Sono rimasti Solo in due Nella finale Quindi hanno vinto Insieme È la prima finale Vinta in due Oh Come cavolo è possibile Probabilmente perché Sono arrivati Fino in fondo Insieme Ed è durato troppo Round Io sono senza parole È la prima finale Che vedo in due Che vincono in due Perché Appunto Loro sono È in Slash 7 Non è in Slash 8 Quindi dovrebbe essere La finale Ok Va bene Io sono senza parole Ragazzi Veramente Che bella questa animazione Che figata Wow Io amo un sacco Queste animazioni qua Di Istanbul Perché sono super tenere Sono fatte Super in modo accurato Prendere le skin Rifarle poi In programmi particolari È super difficile Ma I lavori che escono Poi sono super Super fighissimi